Mr. McCoppy, un buon pareggio per il suo canno? Sì, sofferenza, è stato molto bravo il Chiasso a metterci alle corde, ma i miei ragazzi sono sempre molto bravi a combattere su ogni pallone e abbiamo portato benitettamente questo pareggio a questo punto che ci dà morale per il proseguire del campionato. Ho visto Chiasso delle ultime settimane, si aspettava comunque una reazione così? Certo, dopo un canno di un allenatore, i giocatori sono motivati, sono responsabilizzati e devo dire che ho visto un buon Chiasso, volentieroso, magari un po' confusionale, perché poi dopo cercavano sempre di mettere queste palle e noi siamo stati molto bravi a non andare dietro alla loro confusione, ma ordinati, precisi, sono molto più soddisfatti. Forse è il momento chiave quando Pelloni ha fatto quella paratona su Cerocchi nel primo tempo? Ah, quella mi è sembrata la meno importante, più che altro le altre mischie che si è trovato a ballare un attimino e per fortuna gli attaccanti del Chiasso non hanno avuto una buona mera. Quello canno è partito comunque bene, molto meglio rispetto all'anno scorso? Sì, per il momento siamo molto soddisfatti, dobbiamo ancora continuare su questa strada perché la strada è veramente molto lunga.